Dati davvero allarmati nel rapporto Svimez 2014 presentato a Roma. Settimo anno di recessione nel 2013 il PIL al sud è crollato del 3,5%, il centro nord meno 1,4%. I morti superano i nati. Nel 2013 era successo solo nel 1867 e nel 1918 uno tsunami demografico industriale. Secondo lo Svimez nei prossimi 50 anni il sud è destinato a perdere 4 milioni e 200 mila abitanti. Gli occupati sono 5 milioni e 800 mila, il numero più basso da quando si fanno le rilevazioni statistiche. Negli ultimi cinque anni c'è stato un calo nel mezzogiorno del 9%. Nel 2013 meno 3,8% nel meridione, il nord è a meno 1,2%. La forbice tra le due tali e si allarga. Aumentano i poveri più 40%, dunque riprende l'immigrazione massiccia. L'industria ha bloccato gli investimenti meno 53% in cinque anni. I lavoratori nell'industria calano del 20%, si taglia anche la spesa, i consumi delle famiglie diminuiscono del 13%. Buonasera, dopo questo sconfortante quadro del rapporto Svimez in primo piano.